Buonasera e benvenuti a Ketzenger il programma che Rita Levi Montalcini ha definito un esempio di divulgazione Ketzenger peccato che fosse al quinto gin and tonic questa sera a Ketzenger tutto ciò che non sapete sulla storia e che dopo averci visto continuerete a non sapere il riscaldamento globale chi riceverà la bolletta globale? se Mona Lisa in realtà è Leonardo chi sta allenando l'Inter? il punto il punto su Harry Potter una vita a fare magie e ancora quegli occhiali di merda e ancora Ketzenger e ancora Ketzenger le solite curiosità per acchiappare i gonzi se il sacro gran era un servizio da sei dove sono finiti gli altri cinque calici perché gli egiziani fanno tutti i pizzaioli? cerchi nel grano, cerchi nel grano ma alla fine cosa trovi? scienza e tecnologia approfondimento tutte cose che qui a Ketzenger non sappiamo minimamente come affrontare Ketzenger è vero che calpestare un atomo di stronzi o porta fortuna? l'uomo discende dalla scimmia per risalire dove? se l'astrologia non è una scienza esatta perché tutte le scorpioni che ho conosciuto sono delle scassa cazze stasera Ketzenger l'improvvisazione prende il controllo case infestate dai fantasmi come si dividono le spese condominali? misteri della società migliaia di lavori vengono fatti alla Carlona facciamo chiarezza, conosciamo bene la Carlona questo è Ketzenger parleremo dello strano fenomeno dei déjà vu questa sera a Ketzenger parleremo dello strano fenomeno del déjà vu questa sera a Ketzenger parleremo dello strano fenomeno dei déjà vu e ancora Ketzenger le grandi domande che nessuno si farebbe mai neanche gratis ma a me per fortuna mi pagano la grandissima trovato l'anello di congiunzione tra l'uomo e la donna è un anello da 6.000 euro ascoltando le canzoni di Gigi D'Alessio al contrario migliorano? Plinio il vecchio da giovane si faceva chiamare Plinio il vecchio da giovane vi vedete qui a Ketzenger e vi risponderemo alla cazzo di cane ma vi risponderemo se un fakir è gay nel letto volo un chiodo solo è nato prima al vento i fagioli e infine un po' di temi messi lì alla boia di un Giuda a tu per tu con gli ottomani il popolo che inventò l'applauso e inoltre le minchiate storiche di Ketzenger le minchiate gold la teoria del caos oddio dove l'ho messa non la trovo più davvero la pizza margherita si chiama così in onore di una regina? la famosa regina pizza andremo insieme a Reykjavik dentro l'eruzione del vulcano e chiaffala e chiaffala andremo a Reykjavik dentro l'eruzione del vulcano andremo a Reykjavik dentro l'eruzione a Catania a vedere l'Etna da vicino tutto questo è Ketzenger ma la domanda al mistero più grande come accidenti è possibile che io sia vice direttore di Rai 2 Ketzenger